Invece a Piano di Sorrento e siamo in provincia di Napoli c'è anche chi ha deciso di sposarsi ugualmente nonostante il coronavirus ovviamente ha dovuto rinunciare ai festeggiamenti ma vediamo il servizio di Camilla Nata. Un vero e proprio segno di speranza nella fase 2 giurarsi amore eterno con guanti e mascherina. Grazie per il vostro coraggio e per la vostra volontà adesso gli sposi si possono abbracciare. L'idea di dover spostare comunque tutto i preparativi, i festeggiamenti, il viaggio di nozze non è stata una scelta molto semplice. Una scelta importante per ogni sposa è quella dell'abito. Io ho aperto l'armadio e ho visto l'abito che più poteva andare bene per questo giorno e lo comprai circa un anno e mezzo fa per la prima comunione della mia cuginetta. Vanno rispettate le norme, distanziamento sociale, sicuramente nella fase 2 possono partecipare i congiunti, Villafondi dove si celobano i nostri matrimoni, è un polo culturale della città. A una cosa comunque questi ragazzi non hanno saputo rinunciare. Il simbolo della torta sono i confetti, le mandorle, le delizie al limone perché comunque ci troviamo nella penisola sorrentina. Siamo ora io e Raffaele ma qui siamo in nome per conto di tutti gli altri sposi per dire a loro che tutto andrà verso il bene e che veramente non bisogna demoralizzarsi. Grazie.